I carabinieri di Cassino hanno notificato ad un 46enne del posto l'applicazione da parte del GIP del Tribunale della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con prescrizione di non farvi rientro se non specificatamente autorizzato dall'autorità giudiziaria. Il 46enne è ritenuto responsabile dei reati di estorsione e tentata estorsione, nonché di maltrattamenti in famiglia, poiché, con più azioni esecutive, ha sottoposto in modo reiterato gli anziani genitori ed una sorella, a continue e costanti minacce, a volte anche di morte, attraverso violenze verbali e psicologiche, al fine di costringerli a allargirli continue somme di denaro che usava per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Il tutto è partito dalla denuncia presentata dai genitori che, dopo un ennesimo maltrattamento, si erano rivolti ai carabinieri per riferire che, da diversi anni, avevano subito innumerevoli condotte vessatorie e provocatorie dal figlio. I carabinieri avevano riferito alla G che, con l'odienno provvedimento, ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare del figlio. Sempre i carabinieri, a Sant'Elia Fiume Rapido, a conclusione di indagini avviate a seguito della denuncia a querela sportra al direttore di un'agenzia di credito del Cassinate, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di tentata truffa un 21enne di Roma, già censito per precedenti analoghi. Il giovane si è presentato agli sportelli di un ufficio postale di Roma dove si faceva accreditare sul proprio conto corrente un assegno bancario dell'importo di 15.000 euro emesso dalla Unicredit Banca in favore di un'altra persona che ne aveva denunciato il furto nel mese di novembre del 2017. Grazie all'ocume dell'impiegato, il giovane truffatore non riusciva a venire in possesso materialmente dei soldi poiché bloccati. A Picinisco i carabinieri, a conclusione di indagini, hanno individuato e denunciato in stato di libertà per i reati di truffa, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e danneggiamenti, un 38enne della Valle di Comino con precedenti di guida senza patente. L'uomo aveva affinato un escamotage per truffare le società di noleggio di automezzi e derogazione carburanti, a cui non pagava mai il dovuto. Infatti, riusciva a truffare due società di noleggio veicoli della zona, esibendo un suo documento di riconoscimento ormai non più valido, di cui egli stesso aveva denunciato falsamente lo smarrimento presso una stazione carabinieri e riconsegnava le auto dopo mesi di utilizzo, ammaccate e senza pagare quanto pattuito. Poi, in occasione, acquistava dell'olio motore ed effettuava rifornimento di carburante presso un distributore con l'impegno di estinguere il debito in un secondo momento, perché non aveva denaro al momento, sempre esibendo e lasciando il documento non valido e senza mai onorare la promessa fatta. Il 38enne, tra la fine dell'anno 2017 e l'inizio del 2018, ha truffato a tali società circa 3.000 euro. A Cervaro, i militari del norm della compagnia di Cassino, nel corso di servizi per il controllo del territorio, hanno intercettato e controllato a bordo di un'autovettura con targa di nazionalità francese, che era stata segnalata a girarsi con fare sospetto nei pressi di abitazioni isolati da quel centro, quattro cittadini di nazionalità serba, domiciliati presso un campo rom di Napoli e già censiti per reati contro il patrimonio. Stanti ai presupposti di legge, tre di loro venivano proposte alla questura di Frosinone per l'irrogazione del foglio di via obbligatorio, mentre il quarto, che risultava già allontanato dal comune di Cervaro, è stato denunciato in stato di libertà presso la procura della Repubblica di Cassino, poiché trovato inadempiente al divieto di far ritorno nel citato comune.